Nella scorsa settimana, in seguito al forte maltempo e alle violente marreggiate che avevano colpito Agropoli ed il Cilento, le spiagge agropolesi, in particolare la spiaggia di Trentova e di lungomare San Marco, erano state letteralmente invase da rifiuti di ogni genere. Nella mattinata del 27 dicembre un gruppo di cittadini si era recato volontariamente presso le spiagge al fine di ripulirle dalla spazzatura e dopo poche ore anche il Comune aveva annunciato provvedimenti per questa situazione spiacevole in cui versava il litorale agropolese. Però dopo due giorni il Comune ancora non aveva provveduto a rimuovere la spazzatura raccolta dai volontari dalla spiaggia di Trentova, mentre San Marco era stato totalmente ripulito. Uno dei volontari, Gerardo Scotti, dopo essersi reso conto delle mancate promesse del Comune agropolese per evitare che i rifiuti non rimossi tornassero in mare, ha deciso di presidiare il cumulo fino a quando non sarebbe stato rimosso. In poco tempo il suo appello è stato accolto, infatti si sono recate sul posto varie persone, tra cui anche il consigliere di minoranza Gisella Botticchio e del sindaco Adamo Coppola, il quale si è impegnato in prima persona per rimuovere i rifiuti quando nel tardo pomeriggio è arrivato a Trentova un mezzo della Sarim per ultimare la rimozione dei rifiuti anche dalla Baia. Grazie all'impegno dei volontari ed in particolare di Gerardo Scotti, Agropoli e i suoi cittadini possono godere delle loro bellissime spiagge ripulite dalla plastica.